salve buonasera a tutti allora stiamo per andare a molinella siamo messi così questa situazione io ho dovuto aprire di nuovo tutto perché vabbè adesso qua non vedete perché c'è una guarizione appoggiata comunque ho i carter compromessi quindi devo rifare i piani del cilindro e quindi entra dentro l'acqua no ne voglio non dire il perché e quindi adesso devo portarli a spianare per questo che entrava sempre l'acqua però oggi farò l'azione kamikaze e gripperò davanti a tutti va bene dai vieni qua a vedere invece cosa stiamo facendo qua stiamo facendo uno swap di singhia per essere tarati proprio mettila al contrario esatto quindi l'andremo a mettere al contrario nea cosa dici te risolveremo questa è quella che ha più cavalli di tutti sì ne ha una cifra e vabbè e niente adesso bisogna darsi da fare che non è iscritto al mio canale e si iscriva sì è vero farlo tubo ovviamente e salutatelo nel modo giusto c'è chi saluta a me al posto di lui e viceversa va bene un saluto alla prossima